Buongiorno a tutti, allora oggi il comitato Don Minzoni farà il primo accesso presso l'azienda Non Sono Rifiuti per il riciclo di plastiche e alluminio. Stiamo facendo la divisione dei materiali, dicci un po'. Allora questa è la plastica di trattamento. Perfetto, va bene. E poi invece queste sono la plastica delle bottiglie dell'acqua minerale. Perfetto, che quindi va insieme con queste altre bottiglie, diciamo con questi altri contenitori di plastica, va bene. Sono tutte con i tappi. Perfetti, è più comodo per voi se vi portiamo già tutto senza tappi? Sì, sì. Ma i tappi vengono riciclati anche diversamente. Diciamo che stanno quasi alla fine del trattamento, quindi fanno risparmiare energia gli impianti. Perfetto, quindi per chiunque viene a conferire è importante dividere i tappi dalle bottiglie e fare questa divisione tra plastiche lucide e plastiche opache. Bravissimo. Corretto, perfetto. Senti, invece, lattine di tonno, lattine di caffè? No, purtroppo il barattolome ce l'hanno, diciamo, eliminato gli impianti perché non hanno loro... Ok, perfetto. Con noi proseguiamo la nostra divisione, il conferimento. Guardate quanta plastica è. È tutta plastica che non viene gettata all'interno dei contenitori, ma viene gettata, viene riciclata e mandata in catena di riciclo. Qui siamo al box 95 di Via Trionfale da Non Sono Rifiuti. La prima azienda, forse a Roma, che ha messo a catena di montaggio questo meccanismo e con la quale il comitato Don Minzoni sta tentando di portare avanti un progetto. Vi lasciamo qui e vi faremo sapere poi come andrà il primo conferimento. Ciao a tutti! Ciao a tutti!